E ora voglio presentarvi Milena per Harley Davidson Verona Milena come stai? Ciao Jessica, tutto bene? Benissimo, un'ottima giornata qua a Lake Ma com'è andata a voi? Direi che è andata bene, un sacco di visitatori Un sacco di gente Oggi che è sabato ce n'è stata veramente tanta di gente Una bella soddisfazione Capisco anche il motivo perché avete veramente tanto merchandising Da mostrare agli ospiti Mi vuoi fare un breve elenco delle cose più belle che avete? Oddio, volentierissimo E' che sul più bello qua mi risulta un po' difficile Perché dovrei dire che c'è veramente tutto di bello Quindi non so, possiamo guardare un attimino in giro Qui vedo già dei peluches Peluchini, esatto, sì che sono simpaticissimi Questo mi piace un sacco Questa è la novità di quest'anno Sono simpaticissimi, morbidissimi Perché guarda, sono una cosa eccezionale veramente E purtroppo adesso ne abbiamo pochi E questi non sono per bambini, sono per noi Sono per i bambini cresciuti Anche se sarebbero per i bambini Che li ho qua più in fondo Vediamo anche le giacce Ah, queste già mi piacciono Abbiamo dei bomberini Che sì, peraltro anche molto caldi Quindi i bambini in inverno stanno benissimo Fantastico il logo sul retro E' anche reversibile Quindi è un doppio uso Dall'altra parte diventa tutto rosa Questo in questo caso è sempre da femminuccia E così insomma può essere un po' più aggressivo Per un look proprio più fashion